E adesso Borghi d'Italia, stavolta Rocca se ne va in Sicilia esattamente. A Biancavilla, tra storia, cultura ed una chiesa ambitissima per i matrimoni. Vediamo. Ah però. Amici di Una Mattia Estate, buongiorno, benvenuti a Borghi d'Italia. Oggi sono tornato in Sicilia e mi trovo a Biancavilla. Sono qui con Vincenzo che sa tutta la storia di questo meraviglioso paese. È vero che nel Novecento tutti gli abitanti di Biancavilla hanno aiutato a montare questo campanile? Sì, così si tramanda, così la leggenda vuole in questo modo. Insomma, tutti i biancavillesi che tornavano dal lavoro dei campi trovavano il tempo per dare il loro lavoro, il loro contributo alla realizzazione di questo straordinario campanile che è stato progettato dall'architetto milanese Carlo Sada, lo stesso che ha realizzato ad esempio il teatro Bellini di Catania. Vincenzo, ma è bellissima, è grandissima questa basilica, fantastica. Sì, è la basilica santuario che da quando è nata la nostra città è sempre più cresciuta. Biancavilla nasce alla fine del 1400, da lì è cresciuta attorno a questa chiesa che è diventata appunto una basilica, un santuario, una collegia tatedè, tra le più belle, tra le più grandi della provincia di Catania. Cioè praticamente hanno potuto sposarsi qui? La stragrande maggioranza, non si traccia una media di uno o due matrimoni al giorno. Quest'icona è stata portata dai profughi albanesi, vero? Sì, attorno a quest'icona ruota la storia della nostra città. Nel 1400 un gruppo di profughi albanesi che scappavano dalla dominazione turca in Albania vengono nelle nostre zone, nella zona dell'Etna, e portano con loro ciò che di prezioso avevano, l'icona bizantina degli inizi del 1400 della Madonna delle Lemosi, ha un titolo particolare, della misericordia. La bellezza di questa icona, un'icona appunto assolutamente dei primi del 1400, ha colpito Papa Francesco. Tra le tante immagini della Madonna ha scelto proprio quella di Biancavilla per essere presente all'interno della canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta in Piazza San Pietro. Quindi è stata esposta lì e insomma è stata apprezzata dal Papa. Caro Vincenzo, mi hanno detto il prodotto tipico di Biancavilla, la granita. Qua noi facciamo un scumone, un scumone, certo. Prima si tira, si lavora il cioccolato, gelato al cioccolato, poi si mette dentro la forma, si fa la forma, si scava la forma e si mette nell'abbattitore per metterlo a meno 18. Subito dopo, nel frattempo, ti prepari il cosiddetto zabaione, poi glielo metti morbido come petiore e poi diventa così perché viene rimesso nell'abbattitore. Sono molto fortunato perché questo gelato, questo scumone, è una scumone, è magnifico. Allora io voglio invitare tutti gli amici di Uno Mattina Estate a venire a Biancavilla. C'è storia, si sta bene e si mangia divinamente. Arrivederci a tutti!